Brunelli 2015, la tradizione prosegue con tante novità. L'amministrazione comunale supporta come sempre questa importante festa che apre il periodo di feste con feste estive. Assolutamente, è l'inizio del calendario delle nostre manifestazioni, è il vero inizio della primavera a Burgotarese e Valtarese, oserei dire, quindi una festa campestre che raduna veramente tante persone da tutta la vallata, ma abbiamo visto negli ultimi anni anche un interesse di tanti visitatori da fuori, anche grazie alla promozione online e noi come amministrazione facciamo il nostro ruolo in supporto alla parrocchia, al comitato parrocchiale che organizza a Brunelli la manifestazione, lo facciamo molto volentieri perché ci teniamo a mantenere e qualificare questa manifestazione davvero importante nel nostro calendario. Posso davanti Don Angelo? Qui le parrocchie fanno anche turismo, fanno anche attività di creazione e soprattutto di promozione del territorio. Intanto invito tutti alla celebrazione, il mattino non c'è salami lì, però c'è la messa e poi la precessione perché le feste nascono soprattutto per dare valore al momento anche di ricerca di senso perché la religione serve a trovare il senso della vita, quindi è una grossa opportunità in un tempo in cui si perdono anche dei riferimenti. Quindi al mattino questo, poi pomeriggio si prosegue con questa festa che è stata organizzata con molto impegno, ringrazio tutti gli operatori che insieme hanno voluto dare risalto a questo ritrovarsi. Festa vuol dire trovarsi per godere della vita e quindi ringraziamo la comunità di Brunelli che offre a tutti questa opportunità, come è stato detto anche la prima dell'estate e ci auguriamo che tutti possano usufruire di questa splendida occasione. Tu sei la più giovane? Eh, c'è un po' di... Allora c'è come tutti gli anni la gara del salame, della torta d'erbe e ci sono altre novità, anche in caso di pioggia ad esempio abbiamo il tendone, dunque siamo tutti al coperto e vi aspettiamo questa domenica alle ore 15. Ormai hai detto tutto, c'è anche una bella lotteria, quest'anno ci sarà un pochettino più da manzare, un pochettino più da bere o sbaglio? Giustissimo, abbiamo una lotteria con tanti premi e... e due anni è musica? Grazie. 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 Grazie.